cari amici oggi parliamo della sea watch ma non solo oggi parliamo delle o ng e di guadagni facili perché il traffico di esseri umani è un business molto molto redditizio nel 2018 la sea watch ha raccolto donazioni per 1.797.388,49 euro ed ha speso 1.403.409,26 euro insomma ha chiuso il 2018 con un attivo di quasi 400.000 euro la ong ha speso il 55,9 per cento delle sue entrate pari a 784.210,41 euro per la sua nave sea watch 3 questo senza contare le spese per le paghe degli equipaggi 262.435 euro spesi per l'aereo di ricognizione moon bird che decolla dall'ampedusa individuando i gommoni dei migranti spese sostenute in modo significativo dalla chiesa evangelica in germania e per il 2019 il fabbisogno della ong come raccolta fondi è di 110 130 mila euro al mese pensate che la sea watch ha speso circa 400 mila euro solo per le spese per gli uffici e per gli stipendi per le per pagare il personale e sì perché li chiamano volontari ma in realtà sono persone lautamente pagate perché lo stipendio minimo per il personale di terra e di mare parte dai 1500 2000 euro ovviamente ripetiamo che parliamo dello stipendio minimo perché per esempio la portavoce italiana della sea watch sembra che prenda circa 60 mila euro all'anno che fanno circa 5000 euro al mese che vabbè di questi tempi non è che con 5000 euro al mese ti ci arricchisci ma insomma magari le bollette riesci a pagarle per non parlare poi dei presidenti di queste ong la cui paga minima giornaliera parte dai 1000 dollari appunto al giorno e quindi fanno circa 30 mila euro al mese ma passiamo alla flotta la nave sea watch 3 è stata pagata circa 456 mila euro mentre le sue operazioni in mare sarebbero costate 328 mila euro la sea watch 2 è costata 421 mila euro mentre la sea watch 170 mila euro ma chi finanzia la sea watch la chiesa evangelica tedesca anton tony hofreit capogruppo dei verdi nel bundesstag gregor gisi l'ultimo leader della germania est pro gorbaciov fra i testimonial è spuntato pure il cardinale reynard marx anche l'attrice tedesca katia hankchen leni riemann e il gruppo rock di amburgo revolver held sono testimonial e finanziatori della sea watch una delle sostenitrici più influenti è barbara roch bichler euro parlamentare dal 2009 fino a quest'anno ed ex segretario di amnesty international in germania a strasburgo ha fatto proseliti elena etter schlain è stata eletta euro deputata del pd nell'ultima legislatura anche se nel 2015 ha lasciato il partito per aderire al movimento di giuseppe civati le ong estremiste tedesche cioè la sea watch e la sea ai su un portale internet dedicato ringraziano le chiese per la promozione del salvataggio delle vite nel mar mediterraneo e per pubblicizzare le donazioni che cosa fanno beh pubblicano le dichiarazioni e i volti di alti rappresentanti esponenti ecclesiastici mentre in italia la pseudo ong mediterranea la cui nave la mare ionio che era stata sequestrata è stata dissequestrata proprio oggi ha raccolto 769.748,50 euro grazie a 3306 sostenitori sulla sua pagina in rete cita come supporter i sindaci leo luca orlando di palermo e luigi de magistris di napoli greenpeace italia non mancano fondo fuoco a mare comitato addio pizzo la cgl i giuristi democratici la lega cop sociali friuli venezia giulia e potere al popolo di palermo orfani del comunismo duro e puro non solo l'arci fa strenua campagna per raccogliere il 5 per mille a favore di mediterranea e banca etica preferita dai parlamentari grillini ha permesso l'acquisto della nave sotto sequestro con quasi mezzo milione di euro l'ONG open arms invece è nata grazie ai fondi di una compagnia marittima spagnola del gruppo i bazibal ma ha ricevuto donazioni anche dall'attore americano richard gear e per esempio anche dal manchester city insomma fiumi di denaro utilizzati per portare sempre più migranti nel nostro paese montagne di soldi una fonte di denaro praticamente inesauribile e quando uno ha tanti soldi che cosa fa beh che ne so magari si compra una macchina nuova oppure perché no si compra una nave più grande SOS mediterranei e medici senza frontiere erano rimasti praticamente con i remi in barca perché perché Panama aveva tolto la bandiera alla loro nave la Aquarius e allora loro cosa hanno fatto beh se ne sono comprata una nuova la Ocean Viking che è salpata oggi da Marsiglia in direzione Libia con l'obiettivo di ripescare quanti più migranti possibili anzi per per pescare ripescare il cosiddetto pesce migrante e per riempire le loro reti di quanti più pesci migranti possibili questa Ocean Viking è un vero e proprio colosso se lo confrontiamo con le imbarcazioni delle altre ONG si tratta di un mercantile che già in passato ha operato come nave di salvataggio in particolare in supporto alle stazioni petrolifere e di estrazione del gas lunga ben 69,3 metri e larga 15,5 metri è stata costruita nel 1986 con 2075 tonnellate di materiale è poco più piccola della Aquarius 77 metri ma più moderna e più veloce non è una barchetta visto che ha operato nelle dure condizioni del mare del nord la nave è stata affittata dalla ONG SOS mediterranee e batte bandiera norvegese il costo beh si parla di 14.000 euro al giorno però sono 14.000 euro sì però omnicomprensive comprendono per esempio il noleggio il carburante le attrezzature e perfino il personale di bordo però insomma facciamo due conti quanto costa questa barchetta questa barchetta quanto costa beh questa barchetta costa 14.000 euro al giorno quindi per 30 giorni fanno 420.000 euro per 30 giorni di navigazione e nell'ipotesi che questa barchetta è vero navigasse per tutto l'anno è farebbero 5 milioni e 100 mila euro al anno questo senza contare che questa nave è stata spostata in un cantiere in polonia dove sono state apportate delle costosissime modifiche sull'immenso ponte posteriore hanno costruito un vero e proprio ospedale galleggiante e strutture per ospitare oltre 300 immigrati riciclando alcuni container ma soprattutto c'è molto spazio di stoccaggio che permetterà lunghi periodi in mare se mai si presentassero situazioni del genere ora chissà come mai le ong si attrezzano per passare lunghi periodi in mare ma non sarà che vogliono parcheggiarsi cariche di migranti fuori da lampedusa per imitare le gesta di carola racchete la ocean viking per esempio potrebbe trascorrere un lungo e lieto soggiorno appena fuori dal porto di lampedusa insomma cari amici è iniziata la sfida delle ong verso l'italia e verso la sua politica dei porti chiusi invece un dato in controtendenza oggi la nave alan kurdi che stazionava da tempo a circa 20 miglia dal porto di lampedusa ha deciso di fare rotta verso malta non offriremo a matteo salvini un'altra occasione per uno show così indegno prendiamo sul serio le nostre responsabilità verso le persone salvate e ora andiamo a malta abbiamo ancora a disposizione il diesel necessario per arrivarci e possiamo quindi prendere questa decisione autonomamente mentre appare gravissimo l'atteggiamento della germania denunciato dal ministro dell'interno matteo salvini dal governo tedesco sono arrivati segnali pessimi mi hanno girato una mail che arrivava dalla commissione europea in cui sostanzialmente c'è un ricatto da parte del governo tedesco così io lo traduco che si era impegnato a prendere 30 immigrati sbarcati dalla gregoretti adesso pare che scrivano noi prendiamo quei 30 se voi fate sbarcare i 40 che sono a bordo della nave che si sta avvicinando a lampedusa stiamo giocando a cosa a rubamazzo basta mi sono rotto le palle beh direi che salvini su questo argomento ha ottime ragioni per essersi rotto le palle che poi come sempre ci si mettono anche i magistrati a prendere delle decisioni veramente assurde allora la settimana scorsa è stato arrestato un nigeriano di 25 anni perché ritenuto un esponente molto pericoloso dell'area anarco insurrezionalista di bologna e poi tra le altre cose questo ragazzuolo è vero è stato anche condannato perché in casa aveva sia il materiale per preparare delle bombe dell'esplosivo che le istruzioni per prepararle queste bombe e il 12 luglio il viminale aveva emanato un decreto di espulsione dal nostro paese il nigeriano ha fatto però ricorso alla corte europea per i diritti dell'uomo e in questo modo i tempi dell'espulsione sono slittati e poi ci ha pensato il giudice di pace che non ha convalidato l'arresto e così questo nigeriano pericoloso anarchico insurrezionalista con libretto di istruzioni e materiale per fabbricare delle bellissime bombe è libero di scorazzare per il nostro paese grazie a un giudice che di fatto ha vanificato il decreto di espulsione insomma caro salvini di fronte a questo strapotere della magistratura direi che arrabbiarsi non basta più bisognerebbe incominciare a prendere delle decisioni a fare a prendere dei provvedimenti insomma a fare qualcosa di concreto e poi non dobbiamo dimenticare che i migranti sono un ottimo business per tutti sono un ottimo investimento allora in questi giorni in questo periodo le partenze si concentrano da alcuni porti della libia tra cui coms e garabulli e da queste località c'è chi giura che i trafficanti di esseri umani sono disposti a tutto pur di trasferire quanti più migranti possibili verso il nostro paese proprio durante questi mesi estivi dopo la diminuzione del 90 per cento del numero delle partenze registrata tra il 2018 e il 2019 i gruppi criminali vogliono sfruttare la confusione derivante dal conflitto a tripoli per cercare di recuperare il denaro perduto nei mesi precedenti da qui dunque la prospettiva di un mese di agosto altrettanto caldo sul fronte migratorio come già i precedenti mesi estivi pensate che a garabulli come a coms la maggior parte della popolazione lavora per l'unica industria rimasta sul territorio cioè per l'industria dei migranti pensate che è stato stimato che a garabulli circa la metà della popolazione lavora nel settore dei migranti in questi posti dal 2011 l'economia è collassata per cui per un abitante libico di quei posti anche riuscire a vendere un vecchio barchino ad un trafficante di esseri umani senza scrupoli può rappresentare l'occasione di fare un buon guadagno e una situazione del tutto analoga si registra anche a zuara e sabrata insomma cari amici sul fronte migranti ci attende una lunga estate calda un saluto dal vostro matteo de micheli e vi ricordo che questo canale si sostiene solo grazie alle vostre donazioni ciao a tutti e ci vediamo al prossimo servizio